Siamo in Carpena e Malvolti con il Presidente Nazionale dell'AIS, Antonello Maietta. Stiamo presentando il Gran Premio al Fiere del Prosecco. Che cos'è questo concorso dedicato ai sommelier dell'AIS? Diciamo che intanto è un concorso che ha tutte le carte in regola per avere successo. Siamo alla prima edizione ma siamo convintissimi che i requisiti di qualificazione professionale li avrà tutti. Nel senso è un concorso orientato molto sui giovani e crea delle grandi opportunità di lavoro. Soprattutto questo connubio con Carpena e Malvolti ci porta a pensare che il sommelier dovrà essere sempre più un comunicatore del vino. Non soltanto un tecnico che assaggia il vino, gestisce la carta dei vini e rimane in un ambito ristretto dell'enoteco del wine bar, ma il sommelier è un comunicatore che va all'esterno a raccontare il vino. Quindi la prova importante e determinante di questo concorso sarà proprio quello di saper comunicare il vino. Avrà un valore significativo anche questa prova, ripeto, innovativa per i concorsi AIS, quindi un concorso bello, elegante, piacevole ma soprattutto originale e innovativo. L'altra parte fondamentale è che costituirà un'occasione di lavoro per colui che riesce a posizionarsi per primo. Diciamo che oggi non è male, se uno saprà accogliere anche questa opportunità direi che potrebbe essere una cosa di grande valore. Allora a tutti in Carpena e Malvolti, il 27 di maggio, in occasione di Cantine Aperte, e viva l'AIS, e viva i sommelier, e viva il vino!